allora quelle che vedete qui sono 10 banane all'incirca la dimensione guardate la riferimento verso la mia mano ok qui abbiamo penso che siano un migliaio di calorie queste qui ora ditemi com'è possibile che uno al giorno riesca a mangiare due volte e mezzo questa dimensione quindi andremo a ricoprire il tavolino qui vedete il mio tra virgolette ultimo libro e ho messo le istruzioni per l'invio che è soltanto per il momento formato pdf direttamente da me ora come vedete è praticamente impossibile tra virgolette mangiare con la frutta a meno che uno non vuol passare tutta la giornata a mangiare duemila e cinque calorie consigliate uno che dice allora che faccio non mangio frutta no l'ho detto tante volte la frutta è talmente tanto efficace ed efficiente che ovviamente ha una richiesta di trasformazione del cibo stesso in energia davvero molto minore quindi a parità di condizioni ho necessità di mangiare molte cosiddette meno calorie quindi anche tra virgolette in volume per il semplice fatto che qui ho tutto non è niente sbuccio e mando dentro e questo è un cibo mediamente diciamo calorico più calorici questi diciamo c'è i datteri ma non è proprio un frutto il dattero è un una bacca viene definita e poi è essiccato questo è il suo stato naturale quindi c'è tantissima acqua e c'è di tutto questo è il miglior modo ovviamente per mangiare e liberarsi della scemenza delle calorie come madre natura richiesto a sazietà e a fame ricordatevi che la capienza del nostro stomaco è molto limitata al massimo dell'espansione che uno non ha fatto scelleratezze porta all'incirca un chilo o un chilo e mezzo un litro un litro e mezzo di volume quindi comprese liquidi qui stiamo all'incirca a un litro e due quindi diciamo al limite che possiamo portare quasi con un pasto vi posso garantire già con le prime sei uno si sente abbastanza pieno perché ripeto le dimensioni guardatela con la mia mano ok sono ovviamente ideali e poi soprattutto sono altamente sazianti un adulto non ha bisogno di mangiare tanto in quanto a volte a meno che non fa un lavoro duro ma nessuno dovrebbe farlo qui c'è tutto tutto quello che serve ovviamente un ragazzo un adolescente ha bisogno di più elementi perché sta crescendo ancora in dimensioni un adulto quindi dopo i 22 25 anni non cresce più al ritmo di prima e quindi anche le richieste di nutrienti vanno ridotte qui non si parla di restrizione calorica perché se uno poi nonostante queste 10 banane continua ad avere fame continua a mangiare ma la fame vera e l'ho detto in altri video come la fame vera va ristabilita ovvero se ristabilendo le dimensioni naturale del nostro stomaco che all'incirca due volte il nostro pugno vedete vedete quanto quanto ci vuole questo è tantissimo ma perché la maggior parte acqua quello di cui abbiamo bisogno il nostro secondo nutriente dopo l'aria e vi ricordo se vi è piaciuto anche questo video lasciate un like iscrivetevi condividete sottoscrivete gli abbonamenti se volete fate una donazione attiva tramite l'acquisto dei miei libri questa acquistabile direttamente da me in formato pdf questi sia in formato cartaceo che in formato pdf al prossimo video